Musica All I want for Christmas is you I don't want a lot for Christmas Buon salve e benvenuti in questo Vlogmas numero 14 Sono le 7.25 e sono già piuttosto in ritardo Quindi andiamo ad aprire il calendario dell'avvento Stamattina mi sono svegliata alle 6 per ripassare storia E qui sta la situa Eccolo anche lui è su in cima Scarpiamo il pochettino Quella ha anche la scatola che dice attention di fragilità E la piantina come mi aspettavo è la seconda delle due piantine Quindi ora la mia mensola può essere completa Io sto andando a scuola e questa mattina avrò la verifica di storia Come vi ho già detto tipo 300.000 volte Però fortunatamente prima di storia avrò due ore di geografia in cui potrò ripassare Però mentre ripasso storia dovrò stare attenta anche per geografia Perché settimana prossima ho la verifica anche di geografia È l'una meno 10 Io tra poco tornerò a scuola Questo pomeriggio avrò due ore di ginnastica E un'ora di inglese Dopo una mattinata di inferno Ovvero geo geo storia storia Con la verifica Finalmente un pomeriggio un po' decente La verifica di storia è andata benino Dai io pensavo peggio C'erano tre esercizi Di cui due ho saputo rispondere con facilità Mentre un altro era un po' più difficile Molto più difficile Credo di aver sbagliato un bel po' di cose in quello Però vabbè ciò che ho fatto Ho fatto Ora finalmente è passata questa verifica Sono più libera Anche se domani ho la verifica di tedesco e di matematica Quindi no Oggi quando arriverò a casa dovrò studiare sia per matematica che per tedesco Poi questo weekend sarò libera Tranne domenica che avrò un concerto Però dovrò studiare Perché martedì ho la verifica di grammatica Giovedì quella di geografia E venerdì un'altra di tedesco Quella che mi preoccupa di più tra quelle di settimana prossima è geografia Non vedo l'ora di domani tra una settimana Perché finalmente sarà l'ultimo venerdì di scuola prima delle vacanze Noi rientreremo a scuola l'8 gennaio Anche se non voglio già pensare a rientro a scuola Prima voglio le vacanze Ora devo ritornare a scuola E dopo vi racconterò un episodio divertente che è successo oggi a storia Sono le 5 e io sono tornata più o meno alle 4 e mezza da scuola Finora ho finito di sistemare il video vlogmas di ieri E l'ho già messo a caricare Ora mi aspetta matematica E dopodiché tedesco Che pomeriggi gioiosi e sereni Questa sera avrò prova di mandolino che dura dalle 8 alle 10 Quindi ora devo studiare Per studiare sapete però che io devo avere il mio clima adatto E quindi ho già acceso le candele dell'avvento Eccole qui Ieri non le ho neanche accese Il mio alberello Ed ora proviamo insieme la nuova Tarte Proviamo la nuova Tarte Sperando che non sia troppo dolce Comunque l'odore è proprio quello Cioè è incredibile come la marca Yankee Candle Possa riprodurre i profumi uguali precisi all'immagine Eccola qui A primo impatto mi sembra veramente tanto tanto dolce Aggiornamento di percorso Dopo due minuti ho dovuto spegnere la Tarte Perché proprio non mi piace È dolcissima ma proprio tantissimo In due minuti è stata in grado di farmi venire mal di testa L'ho spenta subito per fortuna Perché se no a quest'ora starei male Non ve la sconsiglio Perché ovviamente sono gusti personali Ma di certo se non vi piacciono le profumazioni dolci come me Non prendetela In realtà non so neanche perché l'ho presa Perché avrei dovuto aspettarmelo Però sentivo tutti che ne parlavano così bene Quindi l'ho dovuta prendere Vabbè per la prossima volta So che devo puntare sulle fruttate e le fresh Questa veramente non mi piace Però ovviamente non la butterò Ma la accenderò per esempio in sala Dove è più grande e il profumo si disperde di più Così che risulterà meno dolce Oddio guardate la candela numero uno Si è tipo afflosciata Oh mio dio faccio danni di nuovo Oh mio dio e cade la cera Comunque la mia bella si è afflosciata E tutta la cera è andata sull'ovatta Questa qui invece non so se sia solo la mia impressione Ma brucia lentissima È ancora intera Ovviamente apro il classificatore Che da noi si chiama così Ma so che da voi si chiama raccoglitora d'anelli E mi cadono fuori tutti i fogli E poi scopro che è rotto Yes Sono le 7.40 Io sono nella brum brum Qua ci sono tutti i mandolini E le cose varie E stiamo andando appunto a mandolino Purtroppo durante il tragitto Non potrò vloggare Perché ci sarà un'altra signora Dicevo che non potrò vloggare Perché ci sarà un'altra signora con noi Eccomi tornata a casa Sono le 11 meno 10 Quindi è già tardi E io sono arrivata adesso a casa E c'è ancora l'odore della tarta E marshmallow Oh ma visto che la Yankee Candle Fa proprio le candele di qualsiasi fragranza Immaginabile come la notte di Natale Tutte queste cose Potrebbero fare una fragranza La cacca agli unicorno Cioè quell'arcobaleno Oppure agli unicorni in generale Secondo me la venderebbero un sacco Io la comprerei Vi racconto cosa è successo oggi a storia Praticamente avevamo una finestra aperta Un uccellino è entrato da quella finestra Mentre facevamo lezione E si è schiantato in quella chiusa Poi è caduto per terra Il docente di storia L'ha preso e l'ha messo fuori Il bello è che in tutto ciò Un mio compagno stava anche filmando Così raccontato non rende Però faceva veramente ridere la scena C'erano tutti che ridevano Comunque per quanto riguarda il concorso Di cui vi ho parlato nel vlogmas di ieri E ancora più precisamente nel vlogmas del 5 dicembre Oggi, giovedì 14 dicembre Dicembre, dicembre, dicembre Ho postato la foto sotto la quale Devono commentare tutte le persone Che vogliono partecipare appunto a questo concorso E che vogliono farmi vedere la loro foto o il loro video Spero che si sia capito Se avete bisogno di ulteriori informazioni Non esitate a chiedere E se non sapete di cosa si tratta questo concorso Andate a vedere il vlogmas del 5 dicembre Volevo farvi vedere questi quadretti Che quando vi ho fatto il tour natalizio della stanza In uno dei primi vlogmas Erano vuoti Ma ora li ho riempiti con queste foto natalizie Secondo me sono veramente carinissimi Io in questi quadretti In ogni stagione Metto delle foto a tema Viva il Natale! Voi con i regali come siete messi? Io li ho già presi quasi tutti Tranne per mia mamma, per mio papà E per qualche amica Che non ho la più pallida idea Ora risponderò ad un paio di domandine Negli ultimi vlogmas le ho prese a caso Dai dei social un po' sparsi Mentre domani le prenderò da Instagram E quindi fatemene molte Oddio mi sono riaffiorati i ricordi Del primo Musical.ly Che ho fatto in vita mia Che purtroppo non ho più Perché avevo un altro telefono Ed era quello così tipo Tan 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 Non me lo ricordo più Eli I mi dice Hashtag vale ma Parla come Chiara Ferragni Mi saluti mi chiamo Elisa Ciao Elisa Ti mando un bacione Allora innanzitutto volevo premettere Che io non so imitare bene le persone Quindi non so imitare bene Chiara Ferragni Però a volte mi diverto a parlare a caso E imitare persone E quindi sì Secondo non la voglio prendere in giro Perché a me piace molto personalmente Però io sono stupida e disagiata E devo farlo comunque Quindi Hi guys I'm Chiara Ferragni And I'm very very tired Because my raviolo Has a big potato Ok lasciamo da parte le imitazioni Because I'm not very good E di Cacamorcia mi chiede Hashtag vale ma Quante lingue parli? Per te è difficile fare vlogmas E andare a scuola? Perché non fai live qui su YouTube? Ti adoro Sei fantastica E se non mi rispondi E non mi saluti Ti mando l'unicorno a casa È una minaccia? Comunque Ciao Erika Allora parlo l'italiano Il tedesco Il francese E poi l'inglese Lo faccio solo più o meno Da un anno a scuola Quindi non lo so parlare Però lo amo Per te è difficile fare vlogmas E andare a scuola? Per quest'anno no Perché sono ancora alle medie E la mia scuola È molto vicina a casa mia E quindi non è pesante L'anno prossimo Che andrò al liceo Avrò molto più da studiare Non so se li farò Mi piacerebbe moltissimo Farli anche l'anno prossimo Però vediamo Siamo malapena a metà Di quest'anno Non devo pensare Già l'anno prossimo Perché non fai le live Qui su YouTube? Perché penso di stare Già abbastanza Sui social Soprattutto in questo periodo Che faccio anche i vlogmas Però nel periodo In cui non faccio i vlogmas Qualche live Mi potrebbe capitare Di farla Però su Instagram Quindi seguitemi su Instagram Se no vi lancio Il tappo a casa Anzi ve lo lancio In tutti i casi Casa casi Allora Elena Lomona Come chiede Hashtag vale ma Sin che parte di Svizzera Abiti Pieste adoro Grazie mille Elena Allora io abito Nella parte sud Della Svizzera Quella che confina Con l'Italia In cui si parla appunto Italiano Abito a pochi minuti Dall'Italia E spesso ci vado Anche solo per fare la spesa E quindi siamo molto vicini Hashtag Ludo e Chiara Mi chiedono Hashtag vale ma Hashtag 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 Capisci i tuoi parenti tedeschi Quando parlano Ti prego mi saluti Mi chiamo Chiara PS sei bellissima e bravissima Grazie mille Chiara Ti mando un bacione Ciao Allora loro non parlano Proprio tedesco tedesco Cioè sanno parlare anche quello Però nella vita di tutti i giorni Parlano il dialetto Di quella regione Che io so parlare Non benissimo Però me la cavo E quindi con loro Parlo appunto Quel dialetto tedesco Ora mi devo andare a preparare Perché sono già Le undici e mezza passate E se no mia mamma Mi tira un calcetto Nel culetto Perché mi ha già richiamata Diverse volte Anche perché questa mattina Mi sono svegliata Alle 5 e 50 Per studiare storia Che poi ovviamente Le cose che ho studiato Non le ha chieste Grazie Bene È molto tardi Quindi io Ora vado subito A dormire E vi mando Un grossissimo bacio E noi ci vediamo Domani Con un nuovo Vlogmas Ciao 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 Ciao